Da circa dieci giorni non si hanno più notizie di un giovane marsalese, Salvatore Pantaleo, di anni 28, che risiede nella periferia sud della città. Si tratta dunque di un giovane la cui scomparsa è stata denunciata dai suoi congiunti che hanno avvisato la polizia. Sulla sua scomparsa si è tenuto stamani un vertice in prefettura con la partecipazione delle forze dell'ordine, nel quale è stato anche deciso che è fondamentale la collaborazione dei cittadini marsalesi. Dunque quanti lo avessero visto sono tenuti ad informare le forze dell'ordine, della polizia, i carabinieri e la guardia di finanza per contribuire al ritrovamento di questo giovane che, ripetiamo, è scomparso da circa dieci giorni di anni 28 e il suo nome è Salvatore Pantaleo.